Anche quest'anno vogliamo farvi gli auguri di buone feste musicali, però tutta la mia famiglia suona, io non so suonare nulla e quindi di solito vengo esclusa da questi video. Quest'anno però è stata riservata una parte anche a me, ho studiato, sono mesi che mi preparo, sono anche un po' emozionata. Spero che andrà tutto bene. Buone feste a tutti! Grazie 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 a tutti!